Ciao a tutti, eccomi qua per il secondo anno a parlare su questo palco. Quest'anno ho scelto di smettere i panni della coach di public speaking, basta, ma volevo parlare di una cosa che mi sta molto a cuore, cioè il valore, il valore di un freelance, il valore che portiamo nel nostro lavoro e che ci serve per farci scegliere. Quanto sforzo facciamo per far trasparire il nostro valore? E non parlo solo di un valore economico, monetario, ma parlo di tutto quello che è il nostro insieme di competenze, il nostro lavoro. Il nostro lavoro, il nostro personal branding si fonda sul valore. E allora lo stiamo facendo davvero uno sforzo per far capire ai nostri clienti come poterci scegliere e soprattutto raccontiamo non solo il cosa facciamo, ma anche il come. Per chi non mi conosce, mi chiamo Tatiana, sono una copywriter e una communication strategist, ma mi piace più raccontarmi dicendo che aiuto i miei clienti a cambiare punto di vista per aiutarli a scoprire un modo nuovo di comunicare e di raccontarsi che parte da quello che loro scelgono di diventare e che sognano. Quando noi parliamo di valore, dobbiamo anche soffermarci un attimo sul suo significato, perché quando noi vendiamo valore, dobbiamo fare uno sforzo per far capire all'altro che devono pagarci quel valore. Devono pagarci il giusto e soprattutto devono sceglierci, ma devono sceglierci sapendo e riconoscendoci quello che noi portiamo. In questi sei anni di freelance, quest'anno ne ho compiuti sei, ho fatto n.mila sciocchezze, non voglio dire parolacce, e ho imparato delle cose da quelli che sono diventati degli errori. Nicola Bonora nel 2015 mi pare fece uno speech dove raccontò il fallimento, e dice fallire un po' morire e un po' no. Il fallimento è importante, l'errore diventa importante quando ci insegna qualcosa. Se non ci insegna niente significa che non abbiamo fatto nessuno sforzo per imparare qualcosa da quell'errore. Io ne ho fatti veramente tanti e oggi sono qua per raccontarveli e raccontarvi che cosa ho imparato e che cosa faccio ora. Questo speech nasce un po' da un'esperienza degli ultimi anni e mezzo, durante i quali ho cambiato totalmente il mio modo di vendere quello che stavo facendo. Dai testi del sito web alle strategie di comunicazione, che sono un pochino più grandi, ai corsi di formazione. Bene, il grosso scoglio che mi trovavo ad affrontare con i miei clienti, che mi chiedevano un preventivo, era far percepire che quei 2.000, 3.000, 5.000 euro avessero qualcosa dietro. Non era solo un valore economico, un valore monetario di quel servizio, bensì un processo. E adesso vi faccio vedere come. Ecco, una volta io dicevo sempre sì. Sì a tutto, sia ai clienti sbagliati, sia cose che non facevo. E ho imparato a dire di no. Dire di no a quei clienti che ti chiedono n.mila telefonate, n.mila riunioni, non fanno parte di me. Basta. Decido io come processare il lavoro che facciamo e ti dico di no su quello che non è nelle mie corde, per poter lavorare bene insieme. Di conseguenza il fare tutto. Io inizialmente organizzavo anche eventi, facevo anche un po' di grafica, perché tanto ero capace a farlo. E mi sono resa conto che lo facevo male, ci mettevo il doppio del tempo. Se io sono una copywriter e mi occupo di parole, mi occupo di strategie, non vedo perché debba fare dei loghi, impaginare. Devo conoscere i principi e le regole base della grafica, ma non devo farlo io. Lo faccio fare a chi è capace, a chi quel lavoro lo fa. Quindi ho cominciato a selezionare e a buttare via tutto il resto. Faccio scrittura, faccio strategie, faccio formazione. Punto. Ho deciso di dire di no, selezionando, perché questo mi dà del valore. Accresce il mio valore. Mi fa percepire come una che sa fare quello e quello è basta. Non è importante fare tutto, ma è fare quello che facciamo e farlo nel modo migliore. Preventivi. Vendere ore. Strategia di comunicazione, 20 ore, 10 ore, 3.000 euro. Ma perché? Il cliente poi ti dice, no, guarda, fanno solamente 8, così pago un po' meno. Vendi il processo, racconta il processo, racconta quello che succederà. Fammi percepire che quel 3.000 euro che mi stai chiedendo sono qualcosa che racconta l'inizio, lo svolgimento e la fine di tutto quello che io tenterò a fare con il cliente, insomma. altro errore molto grosso, che probabilmente non sono l'unica a fare, perché mi pare che anche Rika Crivelli una volta racconta questa cosa. All'inizio io nel mio preventivo raccontavo tutto il progetto del mio cliente, quello che gli avrei fatto fare. E lui mi diceva alla fine, grazie, no, il preventivo non sono disposto, non c'è budget, però bella idea, la tengo. Che cacchio fai dopo? Ormai quel preventivo l'ha inviato e lui può usarlo quel progetto. Quindi raccontare il progetto nel preventivo, in una sales page, o comunque durante una chiamata o una riunione, significa dare, regalare il nostro lavoro. Significa regalare il nostro lavoro. Quindi lavoro gratis non esiste, sono due parole che non stanno bene insieme. Quindi quali strumenti abbiamo per comunicare, raccontare il nostro valore? Abbiamo le sales page del nostro sito, abbiamo il preventivo, abbiamo il contratto. Giorgio Trono fece uno speech molto interessante sul contratto, in cui ci raccontò che bisogna essere molto chiari e raccontare senza usare il burocratese, e raccontare quello che noi vogliamo ottenere, quello che vogliamo preservare del nostro lavoro e anche come vogliamo preservare il nostro cliente. Ok? Diciamolo, diciamolo con parole semplici. Il sito web in generale, dalle sales page, all'about page, ai post del nostro blog, noi in ogni momento stiamo raccontando il nostro valore. Il come siamo percepiti avviene in ogni momento, perché il nostro valore è trasmesso in qualsiasi momento e in qualsiasi cosa facciamo. E quello che Francesca Taddai, che saluto se adesso c'è lo streaming, può sentirmi, lei raccontò uno speech, lei si occupa di customer experience, dove raccontò del fatto che ogni touch point, ogni punto di contatto con i nostri clienti, potenziali clienti è un punto di relazione con loro e di racconto del nostro valore. Quindi veramente qualsiasi cosa noi utilizziamo dalle stories su Instagram, dal post su Facebook, qualsiasi cosa di noi racconta il nostro valore. Anche questo, anche quando noi parliamo di fronte alle persone, quando ci interfa... ci relazioniamo con i nostri clienti durante le riunioni. Tutto quello che mettiamo in atto è un processo di costruzione del valore. E inoltre dobbiamo smettere di vendere solo prodotti e servizi. Noi vendiamo soluzione a dei problemi. Se ci cercano, se hanno bisogno di noi, è perché hanno un problema da risolvere, un bisogno da colmare, un desiderio da soddisfare, oppure una paura da prendere e affrontare. Quindi noi siamo dei Mr. Wolf. Noi prendiamo i problemi e li risolviamo. Aiutiamo loro nell'affrontarli, nel prenderli per le corna e calciarli, insomma. Ciao Gallizio! Il prodotto sei tu. Noi siamo un prodotto. Siamo noi che diventiamo il prodotto e il servizio che vendiamo. Soprattutto quando parliamo di freelance. Vendiamo qualcosa di intangibile, perché sono servizi, sono consulenze. E allora ecco che il discorso di prima sul fatto che siamo noi portatori del nostro valore diventa tanto vero quando noi raccontiamo che il prodotto sei tu. Quante volte noi troviamo un brutto, spiacevole, un preventivo scritto in una pagina con una riga, con scritto, non so, testi per il sito web 800 euro più IVA? Li compriamo? Quei testi? Forse no. Abbiamo piacere a sapere che cosa c'è dietro quel lavoro. Quindi farsi scegliere significa prendersi cura del proprio valore. Significa sostenerlo ogni giorno, ogni ora, ogni momento. E poi farlo durare. E per citare Calvino, dargli spazio. Grazie. Grazie. Grazie.